Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. In primo piano c'è la cronaca con un gravissimo atto di vandalismo accaduto nella notte in una sede distaccata dell'Isis Malignani di Udine, quella situata in via Zuliano nel quartiere di Santo Svaldo. Praticamente la bravata ha visto probabilmente dei ragazzini entrare all'interno dell'istituto scolastico, danneggiare le aule su pelletti, di aprire gli estintori, gli idranti. Andiamo ad ascoltare le parole del dirigente scolastico Carletti. Una scoperta sgradevole, un regalo pasquale davvero sgradevole, un'incursione notturna nella succursale della nostra scuola qui in via Zuliano con degli individui che hanno massimizzato i danni lordando, sporcando, rompendo e cercando di non fare nulla che non passasse inosservato. Avete trovato praticamente le aule messe a soquadro, gli estintori svuotati, da dove sono entrati? Sono entrati dal giardino, saliti per la scala antincendio, bucato una rete, rotto una finestra ed entrati al piano superiore. Poi si sono soffermati ad aprire gli idranti e a svuotare gli estintori nelle aule. Basta vedere qua sotto come quanta quantità di polvere estinguente c'è e poi hanno avuto tutto il tempo per rompere le serature degli armadi dove non c'era contenuto niente di interessante, i disinfettanti anticovid, queste cose qua, la carta igienica, insomma dei danni fatti per fare danno, senza altre finalità. queste persone vanno perseguite, queste persone sono assolutamente al di fuori della nostra comunità, della nostra società e vanno perseguite. È il terzo intervento che fanno in una settimana e nelle primi due incursioni non avevano fatto grandi danni, questa volta hanno davvero recuperato il tempo perduto, lo dico con ironia, ma qui mercoledì dovremo riaprire la scuola e quindi ci sarà da rimboccarsi le maniche e fare il possibile perché si possa ripristinare l'attività ordinaria dell'istituto. Oggi la scuola è chiusa per le vacanze pasquali, però voi siete qui a lavoro a fare la stima dei danni, avete già una prima ipotesi? Ma non abbiamo fatto una quantificazione monetaria, una valutazione monetaria, quanto abbiamo fatto una valutazione in ordine ai danni dovuti a rotture, a fracassamenti, a distruzione di superlettili, armadi eccetera, materiale sprecato, serrature rotte, ma soprattutto il danno sarà il costo di una pulizia che prevede di usare strumenti idonei a togliere una simile massa di polvere inerte. Continuiamo con la cronaca, 9 persone sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al furto per aver effettuato 11 assalti a depositi di merce appartenenti ai marchi della moda, usando anche tecniche paramilitari. Gli arresti effettuati dai carabinieri di Monza sono scattati all'alba in Brianza e nelle province di Milano, Lecco, Bergamo e Piacenza, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Monza. La banda, con base a Paderno Dugnano in provincia di Milano, agiva secondo lo stesso modus operandi, ovvero rubando auto per usarle come ariete e incendiando pneumatici lungo le vie di accesso alle aziende per ostacolare l'arrivo delle forze di polizia e avrebbe messo a segno in totale, secondo le accuse, 11 furti per un totale di 1 milione di euro di merce rubata, abbigliamento e accessori delle più note Grif. Il tutto è partito dal primo colpo nel novembre 2021 dopo un furto da oltre 350 mila euro alla ditta Mabi di San Daniele del Friuli, società che cura la fase di controllo qualità produzioni per conto di un noto marchio di alta moda. La stessa ditta era finita nuovamente nel mirino dei ladri a metà dicembre, ma in quel caso l'allarme aveva fatto desistere i malviventi. Dalle verifiche effettuate, analizzando le immagini riprese dai sistemi di videosveglianza, è stato possibile rilevare come i malviventi avessero raggiunto la sede della società san danielese con veicoli rubati nel corso delle ore precedenti nei comuni di San Daniele, Dignano, Sesto a Reghena e San Vito al Tagliamento. La squadra mobile della questura di Udine in collaborazione con la polizia di frontiera di Ciampino ha invece eseguito due ordini di carcerazione disposti dalla procura di Udine nei confronti di un uomo di 53 anni e di una donna di 27, entrambi cittadini romeni. La polizia ha anche fornito decisiva collaborazione ai colleghi spagnoli per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo nei confronti di un 32enne cittadino serbo. L'uomo di nazionalità romena deve scontare una condanna di 4 anni e 8 mesi per razzie e furti in abitazioni. La donna, cittadina romena, 2 anni e 2 mesi sempre a seguito di furti in esercizi commerciali di Udine e della provincia. Per quanto riguarda il serbo, la pene di 2 anni, 10 mesi e 26 giorni per fatti accaduti nel 2009, guida senza patente, furto di un'auto e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono tutti in attesa delle procedure di estradizione. Ed ora veniamo agli aggiornamenti quotidiani dall'Ucraina. Mentre sono in corso feroci combattimenti a Mariupol con i russi che avanzano in città, il drammatico appello del comandante della Marina Ucraina è una soluzione perché la situazione è critica. La Russia è tornata ad attaccare Washington. Il Cremlino è infatti inviato negli States questa settimana una nota diplomatica formale avvertendo che le spedizioni statunitensi della Nato di sistemi d'arma più sensibili all'Ucraina stanno alimentando il conflitto e potrebbero portare a conseguenze imprevedibili. Nel frattempo Kiev ha annunciato di aver affondato nel Mar Nero un'ammiraglia di Putin. Mosca conferma la perdita dell'incrociatore Moskva. Forse aveva un'attestata nucleare. L'ammiraglia della flotta russa nel Mar Nero è affondata. A poche ore dall'attacco da Odessa con missili Neptune rivendicato da Kiev, Mosca annuncia la definitiva perdita dell'incrociatore Moskva colato a picco nelle geli di acqua a largo dell'Ucraina meridionale dopo aver perso stabilità mentre veniva rimorchiato durante una tempesta. Secondo la difesa russa la nave è affondata a causa del danno allo scafo avvenuto durante l'incendio seguito all'esplosione delle munizioni trasportate a bordo. Dopo che l'equipaggio di circa 500 marinai era stato evacuato il Pentagono aveva confermato almeno un'esplosione ma non la sua causa e la dava diretta al porto di Sebastopoli in Crimea per un disperato tentativo di rimetterla in sesto che nelle scorse ore è però fallito mandando a fondo insieme ad un gigante da 12.500 tonnellate e 750 milioni di dollari un pezzo importante della credibilità delle forze armate di Vladimir Putin. E con il Moskva si teme possa essere finita negli abissi anche una testata nucleare che secondo voci non confermate avrebbe fatto parte del suo arsenale. Intanto in vista della grande battaglia della Donbass gli Stati Uniti hanno promesso di far giungere le nuove armi all'Ucraina in meno di una settimana precisando che poi le forze di Kiev le porteranno nell'est e lanciando un monito a Mosca. Gli Stati Uniti non stanno operando in Ucraina ma se i russi dovessero colpire una qualsiasi parte di territorio della Nato dove le attrezzature militari vengono assemblate questo comporterebbe l'invocazione dell'articolo 5 e cambierebbe completamente il gioco avvertito il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan dopo che Mosca aveva definito obiettivi militari legittimi i veicoli statunitensi e della Nato che trasportano armi e munizioni attraverso il territorio ucraino. E Mosca minaccia conseguenze pesanti con Finlandia e Svezia se queste aderiranno alla Nato. Una dura reazione del Cremlino dopo gli annunci di Helsinki e Stoccolma. Durissima reazione del Cremlino all'annuncio di Finlandia e Svezia di voler aderire alla Nato in tempi brevi. Ci saranno conseguenze tra le più indesiderabili, ha assicurato il vice ministro degli esteri Alexander Grushko spiegando che l'adesione di Helsinki e Stoccolma all'alleanza atlantica cambierebbe radicalmente la situazione politico-militare nell'interarea. Se Svezia e Finlandia entreranno nella Nato non sarà più possibile parlare di status non nucleare nel Baltico. L'equilibrio dovrà essere ripristinato, ha invece minacciato il vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitri Medvedev. L'invasione russa ha radicalmente cambiato i sentimenti dei cittadini finlandesi e svedesi assai tiepidi negli anni scorsi all'ipotesi di un'entrata nella Nato. Ma la premier finlandese Sanna Marin e quella svedese Magdalena Andersson hanno ben interpretato i timori della popolazione bruciando i tempi. Soprattutto la Finlandia potrebbe formalizzare la richiesta di adesione già entro la fine di maggio. Basta osservare i confini per ben comprendere le ansie della Finlandia che condivide con la Russia 1300 chilometri di frontiera. Anche la Svezia pare intenzionata ad annunciare la decisione di aderire alla Nato prima del prossimo vertice dell'alleanza atlantica che si terrà a giugno a Madrid. Nell'ultima settimana, a conferma dell'avanzato stato di collaborazione, esercitazioni aeree della Nato con Finlandia e Svezia sono state condotte nei paesi baltici. La svolta dei due paesi scandinavi ha ottenuto l'immediato endorsement della Gran Bretagna. Le minacce russe nei confronti degli stati nordici e baltici non sono nuove e rafforzano solo le nostre unità, ha dichiarato la ministra degli esteri britannica Litz Truss. Svezia e Finlandia sono libere di scegliere il proprio futuro senza interferenze. Il Regno Unito sosterrà qualunque decisione. La pagina sanitaria, diffusi poco fa i dati del contagio, nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia, 1.060 nuovi positivi e 4 decessi, secondo i dati comunicati dalla Regione. Tre persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati negli altri reparti scendono a 144. La Regione si sta organizzando per la seconda dose di richiamo del vaccino contro il Covid. L'azienda Friuli Centrale Potenzia, lab vaccinale dell'ente Fiera, dove verranno garantite anche altre prestazioni. Sentiamo. Non solo Covid-19, anche herpes zoster, papilloma virus, meningite e tibie. Negli spazi vaccinali dell'ente Fiera di Martignacco saranno organizzate nei mesi di aprile, maggio e giugno delle sedute straordinarie di vaccinazione contro queste quattro malattie. Per quanto riguarda l'anti herpes zoster, i destinatari sono i nati nel 56 e 57, che riceveranno a domicilio la lettera d'invito a presentarsi al centro. Invito personalizzato anche per i nati nel 2008 e 2009, per la vaccinazione contro HPV e meningite meningococcica. Sedute straordinarie anche per il vaccino contro l'encefalite da zecche, seconde, terze dosi e richiami per le persone che hanno già iniziato il ciclo vaccinale, in questo caso su appuntamento attraverso il CUP. Novità anche per quanto riguarda il vaccino contro il Covid. Da mercoledì 20 aprile saranno aperte le agende per la prenotazione della seconda dose booster per le categorie per cui è raccomandata in regione dell'età avanzata, dagli 80 anni in su, della residenza in strutture per anziani o della presenza di patologie che rendono più rischiosa un'eventuale infezione da SARS-CoV-2. I vaccini utilizzati per la seconda dose booster saranno i due a mRNA Pfizer o Moderna. La seconda dose booster interessa chi ha già fatto il vaccino da almeno quattro mesi e dopo non ha contratto il Covid. In Friuli Venezia Giulia, secondo i dati della Fondazione Gimbe, la copertura vaccinale della prima dose booster è leggermente al di sopra della media nazionale, pari all'84% della platea degli interessati. Per quanto riguarda invece il ciclo primario siamo sotto la media. L'81,7% della popolazione residente lo ha completato, il 2% ha solo la prima dose, il rimanente 16,3% non si è mai vaccinato. La parte del Leone la fa il progetto di edilizia residenziale di San Domenico per il quale il ha ottenuto 15 milioni di euro dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Si aggiungono i quasi 10 milioni per la nuova sede del Museo di Storia Naturale nell'Ex Frigo, i 5 per la procura nell'Ex Tringer e un importo che accarezza la soglia dei 5 milioni per la nuova scuola dell'infanzia di via Adige. Seguono anche il progetto per rafforzare la mobilità ciclistica, 1 milione e 400 mila euro, un intervento per l'adeguamento antisismico della elementare d'Orlandi e altri contributi. Fanno 38 in tutto per opere per le quali l'amministrazione comunale di Udine ha ottenuto il finanziamento, risulta assegnataria dei fondi PNRR ad annunciarlo il sindaco Fontanini che dice si tratta di un risultato ragguardevole ma ancora parziale. Orizzonte incerto invece per il settore terziario, non solo per gli effetti della pandemia e della guerra. Richiamare l'attenzione sul tema è la CGL. Guerra, pandemia, DDL concorrenza, appalti, legge sul commercio. Sono tante le incognite sul futuro del settore terziario che hanno spinto la CGL e la Filcams in particolare a scrivere direttamente a Presidente della Regione e parlamentari eletti in Friuli Venezia Giulia per chiedere innanzitutto la modifica del DDL appalti che nella versione uscita dal Senato cancella l'obbligatorietà della clausola sociale. Architrave del sistema, sottolinea la CGL perché garantisce la stabilità occupazionale dei lavoratori in caso di successione tra imprenditore cedente e cessionario nell'ambito dei contratti di appalto. Senza questa clausola almeno 20.000 lavoratori nella nostra Regione sono condannati di fatto a uno stato di precarietà cronico, spiegano la segretaria confederale Rosanna Giacaz e Francesco Buonopane, segretario regionale della Filcams, la categoria che rappresenta i lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi. Rimanendo in ambito legislativo anche lo stallo politico sulle concessioni contribuisce a rendere l'orizzonte oscuro, anche qui il tema è garantire continuità occupazionale dei lavoratori del comparto. Per chiudere il capitolo leggi, quella sul commercio necessita di una revisione, dice la CGL, che rivendica un ruolo centrale per i sindacati all'interno dei distretti commerciali. Intanto rilancia l'appello a tenere chiuse le serrande il 25 aprile e il primo maggio, un appello accompagnato a un invito a disertare i negozi che resteranno aperti. Non solo guerra e pandemia dunque a rendere oscuro, incerto, il futuro del settore terziario. E' fissata per domani la giornata di protesta indetta dalla SLC CGL e sostenuta anche da UGL e Consal. Possibili disagi alla vigilia di Pasqua nei 320 sportelli di poste italiane del Friuli Venezia Giulia. Lo sciopero è stato indetto per l'intera giornata, a partire con il 4 aprile assieme al blocco degli straordinari. La protesta, lo stato di agitazione è stato deciso dopo che l'esito negativo del confronto in atto con l'azienda sulle assunzioni, sulle condizioni di lavoro del personale di Sportello non ha portato ancora a risposte da parte dell'azienda. A proposito di poste a Mattebancomat, quest'oggi in tutta Italia e anche nella nostra regione sono state diverse le segnalazioni di malfunzionamento per quanto riguarda le carte e i pagamenti attraverso i POS, nello specifico di Intesa San Paolo, Unicredit, Poste Italiane, BNL, BNP, Paribas. I clienti di questi istituti infatti dalle 11.45 hanno iniziato ad avere difficoltà con i pagamenti tramite i terminali POS, un malfunzionamento che secondo Fontinexi sarebbe durato circa una trentina di minuti e poi è stato risolto. Altre tessere, quelle della benzina agevolata regionale con la Camera di Commercio di Pordenone e Udine che ha deciso, vista l'eccezionale richiesta di tessere carburante dopo l'aumento dello sconto, di dare avvia un'ulteriore apertura straordinaria degli sportelli in entrambe le sedi di Udine e Pordenone con l'ampliamento degli orari già avviato in questi giorni per velocizzare al massimo i tempi di prenotazione e smaltire più rapidamente possibile le richieste. A partire da martedì prossimo 19 aprile fino al 18 maggio, salvo proroghe, sarà dunque possibile prendere appuntamento tutti i giorni, oltre al consueto orario mattutino, anche nei pomeriggi dalle 14.30 alle 19.30 e la mattina del sabato dalle 8.30 alle 12.00. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo gli appuntamenti per il pomeriggio sulla nostra emittente, ritorneremo live con l'informazione alle ore 19, alle 19.30 al Tg dedicato allo sport, alle 19.45 l'edizione dedicata a Pordenone e provincia, alle 20.45 Tam Tam con Alberto Terasso, in prima serata benvenuti al Bargigia con Paolo Bargigia e Massimo Campazzo, alle 21.30 invece andrà in onda lo speciale dedicato a Vinitali e alla Fiera Beat di Milano. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.